Un tablet, una sim dati e una guida per il corretto uso di internet. È il primo dei 97 kit didattici consegnati alle classi vincitrici del concorso La mia scuola al tempo del Covid, ideato dal Consiglio regionale del Piemonte tramite la consulta femminile, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Save the Children e la Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte. A ricevere il premio le ragazze e i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado Piero Calamandrei di Torino. Anche loro, come centinaia di altri studenti in tutta la regione, hanno preso parte del concorso realizzando video, interviste, racconti e canzoni per far capire, soprattutto agli adulti, le difficoltà di un anno di scuola vissuto a distanza a causa della pandemia e testimoniare la voglia di ritornare insieme tra i banchi. Raccontano sicuramente delle difficoltà, sicuramente della stanchezza, ma anche una grande speranza per come vorrebbero che fosse la scuola di domani. Quindi hanno dimostrato veramente una grande resilienza, indubbiamente. Quello che noi vediamo come Save the Children è che questo ha provocato in Italia un aumento della povertà educativa, una difficoltà per loro nel riuscire a stare dietro la scuola molto spesso. Il nostro compito è quello comunque di aiutarli a recuperare con strumenti digitali, con strumenti educativi. Questo distacco. La premiazione delle classi chiude la prima fase di un progetto più ampio, che punta a condurre un'indagine sulle difficoltà vissute dalle famiglie e su quanto la didattica distanza abbia condizionato in particolare il ruolo delle madri. Questo potrebbe essere anche un'occasione per l'intero Consiglio regionale del Piemonte di avere dei dati, dei riferimenti sui quali riflettere per quanto riguarda la situazione delle donne sul territorio piemontese durante questo difficile periodo. Grazie. 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 Grazie.